ciao a tutti e con questa immagine appunto che vi voglio far vedere il buco nero la prima fotografia del buco nero 10 aprile 2019 vediamo appunto nel mezzo il buco nero e attorno tutta la massa la massa qui che prima viene attirata da questa grande forza di gravità poi qui che la massa inizia a prendere velocità e qui punto che diventa energia non energia c'è un'energia una nullità così tanta energia che è da qui la spiegazione del mondo è uguale mc quadro c'è da oggi riusciamo a capire da dove proveniamo primo buco nero cioè riflettete un attimo aspetta cosa vuol dire quello che era stato redetto esiste veramente esiste e c'è